cari giovani che seguite in tanti il decimo toro lo so dalle statistiche che mi via youtube adesso vi leggo un messaggio importantissimo per voi quindi seguitelo con attenzione poi alla fine vi dirò chi ve lo manda il messaggio è questo sebbene è spento nel mondo il grande il bello il vivo non è spenta nei giovani l'ardore che li porta a desiderare una vita piena e a disprezzare la nullità e la monotonia l'entusiasmo giovanile cosa naturalissima universale importantissima una volta entrava nella considerazione degli uomini di stato in modo così consistente al punto di avere un grande peso ma oggi è considerato come non esistente oggi però questo ardore continua ad esistere ma opera senza una direzione precisa in questo modo non può dare frutto in realtà questo entusiasmo questa energia giovanile continua ad essere presente perché anche se tutte le istituzioni tendono a distruggerla ciò è impossibile in quanto la natura non si distrugge e la natura dura ai giovani questa potente energia che anticamente era impiegata e ordinata per il bene di tutti anche in azioni eroiche ora questa naturale ma potente energia che mai potrà spegnersi mai potrà estinguersi anche se è divenuta estranea alle istituzioni a chi ci governa che non la prendono in considerazione continua ad esistere a circolare a serpeggiare come un fuoco elettrico che non può spegnersi al punto che nessuno può impedire che divampi e si trasformi in un temporale o in un terremoto il messaggio è questo e ve lo manda Giacomo Leopardi che scrive queste parole il primo agosto 1820 nello Zibaldone cari giovani la situazione è drammatica tutti dobbiamo mettersi una mano sulla coscienza questo è chiaro ma voi avete l'energia per farlo e voi potete ancora cambiare le cose per non entrare in un futuro da incubo un futuro distopico un futuro orribile anche se voi non fate più figli ma conoscerete qualche bambino conoscerete avrete qualche alcuni di voi avranno dei fratellini alcuni avranno intenzione poi di fare dei bambini ma che mondo volete lasciare ai bambini del futuro e io quando sono andato alle manifestazioni di piazza la cosa che mi ha colpito è che i giovani erano una minoranza eravamo tutti vecchi e questo è assurdo l'entusiasmo giovanile dice Leopardi è cosa naturalissima e va indirizzata e sentite quanto è attuale il messaggio di Leopardi perché ci dice che chi ci governa non non se ne cura adesso ma perché non se ne cura perché voi lo dice lo stesso Leopardi non state indirizzando tutti insieme la vostra energia staccatevi dalla playstation staccatevi per un attimo dalle discoteche io capisco che il lockdown tutta è stato può essere stato terribile per i giovani appunto perché hanno questa energia perché i giovani si deve muovere deve stare insieme i giovani si devono abbracciare fare l'amore innamorarsi fare fare quello che sempre hanno fatto i giovani però ecco Leopardi sottolinea che questa è un'energia potente che non può estinguersi e si può trasformare in temporale o terremoto dice Leopardi ma a patto che la indirizziate ora siete dispersi mille rivoli ma voi potete ancora cambiare le cose la potete cambiare alla grande non state lì a ubbidire la scuola purtroppo io sono stato tanti anni nella scuola vi ha disabituato a ragionare con la propria testa tutti pensano ah sì io ragiono con la mia testa no non si nasce ragionando con la propria testa è un'illusione produrre un pensiero proprio costa fatica costa studio e quindi rimboccatevi le maniche impegnatevi state attenti a quello che sta succedendo perché dico che potreste cambiare perché ad esempio il 15 settembre riaprono le università pensate che bello se tutti non si presentassero nelle aule se tutti rimanessero al di fuori delle università per protesta che forma di solidarietà che potrebbe creare tutto questo e questo potrebbe divampare potrebbe trasformarsi in temporale o terremoto ma questo dipende da voi io vi invito a fare circolare questo video e riflettere insieme prendete contatto con altri giovani io sono contento quando mi incontrate alle manifestazioni di piazza perché molti non si limitano neanche a stringermi la mano mi volete proprio abbracciare questo perché vi manca punto di riferimento e purtroppo la politica attualmente è morta non ci sono punti di riferimento e quindi il punto di riferimento lo dovete ritrovare in voi stessi con l'aiuto anche dei vostri amici unitevi aiutatevi e aiutateci ad uscire fuori da questo incubo perché voi potete farlo ma lo dovete desiderare e lo dovete volere un caro abbraccio a tutti marco cosmo